Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana, come vi avevamo anticipato la scorsa settimana, questa sarebbe stato un approfondimento, una puntata monotematica, parliamo del 31 di gennaio quando si è tenuta la seduta solenne del Consiglio regionale per il giorno della memoria, si è tenuta presso il Memoriale Italiano di Auschwitz a Firenze e quindi anche quest'anno il Consiglio regionale della Toscana ha scelto un luogo simbolo in cui svolgere la seduta solenne in occasione del giorno della memoria, questa volta è toccata a Firenze e in modo specifico al Memoriale Italiano di Auschwitz che si trova in Viale Giannotti nella zona di Firenze Sud e come ha ricordato il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo è un impegno quello di celebrare la seduta ogni anno ma in un luogo simbolico della nostra regione. Poi il Presidente ha voluto rivolgere un saluto particolare a uno dei presenti, Renzo Montini, classe 1928 fiorentino del quartiere di San Frediano, sopravvissuto ai campi di sterminio. Abbiamo voluto ricordarlo in un luogo simbolo, in un luogo simbolo per Firenze, per la Toscana, in un luogo in cui si ricordano attraverso le parole e le immagini quanto orrore sia stato compiuto dal regime nazifascista, i campi di sterminio, tutte le violenze subite dalle comunità ebraiche, dai rom, dai gay, le deportazioni, milioni di donne e di uomini uccisi barbaramente e noi abbiamo un compito, oggi che purtroppo i testimoni della memoria sono sempre meno, di diventare noi amplificatori di memoria, di fare in modo che questi luoghi siano sempre più visitati dalle nostre scuole, dalle studentesse, dagli studenti. Ho salutato appena arrivato Renzo Montini, sono felice che Renzo sia insieme a noi. Renzo ha 96 anni, ha 15 anni, è stato deportato nel lager di Mauthausen. Ho stretto la mano di Renzo e ho ancora la pelle d'oca. In due minuti è riuscito a raccontarmi quanta violenza, quanta cattiveria, quanta barbaria può subire un uomo e quanta violenza un uomo può fare verso un altro uomo o un uomo verso un'altra donna. A lui ho detto che noi ci prendiamo la responsabilità quando la sua parola non ci sarà più di continuare a raccontare quello che lui e altri hanno subito. Iniziative come queste servono esattamente a questo, non portarci dall'altra parte, ricordare che la libertà è un dono prezioso, che siamo riusciti ad avere perché donne e uomini hanno donato il sangue per noi e lavorare davvero per costruire le condizioni che tutto questo non accade più. E quali sono le condizioni di base? Che ci sia pace, pace nel mondo, pace nella nostra Europa. Noi siamo riusciti a vivere meglio e in Europa non ci sono state guerre quando l'Europa ha fatto l'Europa, quando è stata insieme, quando ha superato le differenze, le divisioni. Sento un vento antisemita che ispira forte in Europa, sento che c'è meno Europa e che ognuno pensa a guardare i propri interessi con un nazionalismo dilagante e crescente e allora dobbiamo dire con forza che la Toscana vuole fare la sua parte per non avere un'Europa più forte. Il dovere della memoria e l'impegno delle istituzioni della Toscana e del Consiglio regionale è di fermarsi, ricordare quello che è successo per non dimenticare ma soprattutto per attualizzare rispetto alla dimensione dell'uomo, della persona, al valore della persona. Se pensiamo in queste ore a quello che sta accadendo in Medio Oriente, alle guerre che sconvolgono l'Europa e a quanto è successo e abbiamo visto ognuno di noi le immagini d'Area Salis in Ungheria, una situazione che denota massima attenzione, sembra che l'uomo non dimentichi mai, anzi dimentichi e noi invece non vogliamo dimenticare rispetto della persona, rispetto dei diritti e credo che serva sempre tenere alta l'asticella dell'attenzione della Toscana a questo compito, a questo dovere, a un impegno morale e credo che oggi fare un Consiglio regionale è fermarsi in questo luogo, simbolo di un ricordo importante che dentro di noi deve sempre tenere alta l'asticella del rispetto e dei valori umani e bisogna provare a fare uno scatto in avanti e fare in modo che l'Europa e il nostro continente dimentichi quella stagione che non si ripercuota più quanto è successo con l'Olocausto e soprattutto con lo sterminio di tante persone innocenti. Abbiamo scelto di trovarci al Memoriale Italiano della Deportazione di Firenze, un luogo sicuramente emblematico dove possiamo sicuramente portare avanti l'obiettivo della memoria, di una memoria viva, di una memoria accesa, perché quei fatti, le deportazioni, le torture, la Shoah non abbiano più a ripetersi. È un'iniziativa quella della giornata della memoria che ricorre tutti gli anni ma che dovrebbe esserci in realtà tutti i giorni, perché fatti così terribili devono essere di monito verso un futuro che sia invece sereno, sia un futuro di pace, una parola quanto mai importante ed attuale. Secondo me è stata una scelta molto felice viverlo qui al Memoriale di Auschwitz, su cui dal 25 luglio dell'anno scorso ricorrevano gli 80 anni della cacciata di Mussolini, dal ruolo che lo portò in modo devastante a tutto il male che l'Italia ha vissuto con i nazi fascisti, le deportazioni, le uccisioni degli ebrei, 6 milioni e mezzo di persone scomparse nei campi di concentramento e di sterminio. Auschwitz c'era e stava passando in qualche modo con scarsa manutenzione a un livello di progressiva consunzione, questo memoriale. L'abbiamo portato qua a Firenze, 3 milioni di euro, l'acquisto, la ristrutturazione dei locali, l'immissione di tutte queste immagini e quindi oggi va fatto conoscere, la regione di 3 milioni ci ha messo 2 milioni e mezzo e qui possono venire le scolaresche, tutti i cittadini, rendersi conto con suggestioni e emozioni dati dalle foto, dai documenti ma anche dalla multimedialità di questo ambiente di quale è stato il dramma che nella seconda guerra mondiale ha portato i nazi fascisti alla distruzione etnica da un lato degli ebrei ma dall'altro dei dissidenti politici, dei rom, degli omosessuali, dei disabili. Insomma la memoria perché non accada mai più. Io quando ho fatto il mio intervento oggi ho spiegato che noi dobbiamo riconoscere la genesi dei segni del male perché ad Auschwitz è il punto finale ma si arriva ad Auschwitz sempre con delle tappe di preparazione che possono portare al male estremo e oggi noi viviamo in un mondo estremamente pericoloso perché abbiamo la Cina che vuole invadere Taiwan, la Russia che ha invaso l'Ucraina, la Corea che vuole invadere, nel nord che vuole invadere la Corea del Sud, le guerre in Medio Oriente, abbiamo attacchi alla democrazia, non sappiamo come andranno le elezioni americane. C'è una situazione credo molto differente da quello che era prima perché prima noi avevamo un'idea in sostanza di una pacificazione del mondo dopo l'89, pensavamo che finissero le guerre, che ci fosse la collaborazione internazionale, che la globalizzazione facesse diventare tutti amici. Invece oggi ci sono nel mondo grandi segni del male. Quindi oggi il problema, anche quando si fa la giornata della memoria, è di pensare il passato guardando al presente, perché il passato serve al presente, perché se non serve... e oggi io credo che noi dobbiamo lanciare un messaggio non solo alla politica ma soprattutto ai cittadini, alle persone comuni, ai giovani, all'insegnante, agli educatori, un messaggio affinché ognuno si prenda delle responsabilità in questa crisi che c'è oggi. Ed è per questo un po' che in tutti questi anni la mia fondazione, ma in realtà è una specie di missione italiana, è quello di creare questi giardini dei giusti in tutte le città, non solo in Italia, anche all'estero, per mostrare, diciamo, le persone che si assumono una responsabilità. E io lo dicevo anche oggi nel mio intervento che sarebbe importante che anche Firenze rivitalizzi questo giardino dei giusti, perché esiste un giardino dei giusti, ma è anonimo. Ma i giusti, anche se Bartoli dice, è meglio non saperlo perché ho fatto il bene e Dio mi dirà grazie. Però noi invece dobbiamo mostrare le figure dei giusti come esempio morale per le persone, cioè i giusti, diciamo, servono per educare anche agli altri a fare qualche cosa. E credo che oggi, più che mai, c'è bisogno di responsabilità, c'è bisogno un po' di far credere all'individuo e di spiegare all'individuo che ogni persona può sognare e può fare dei miracoli. Cioè, anche se il mondo va in una cattiva direzione, qualsiasi persona potrebbe ingranare un ingranaggio perché il mondo va in una buona direzione. Cioè, in fondo, Bartoli, che improvvisamente gli viene l'idea di salvare degli ebrei, è stato un piccolo miracolo, no? Quindi, questo piccolo miracolo è possibile, secondo me, per tutte le persone. Allora, una città come Firenze, che è visitata da milioni di turisti da tutto il mondo, è una città di cultura, è la città della storia italiana, allora merita di avere un grande giardino dei giusti esattamente come questo memoriale. Allora, lei ha citato proprio Gino Bartoli a pochi passi, da qui c'è una piazza dedicata proprio a Gino Bartoli. L'importanza di ricordare i giusti per le nuove generazioni diventa fondamentale, importante per non dimenticare un periodo così drammatico per non solo l'Italia, ma per tutto il mondo. Io penso che sia assolutamente indispensabile, perché noi non dobbiamo dimenticarci che genocidi, crimine contro l'umanità avvengono per scelte degli uomini. Cioè, sono gli uomini che fanno il male, non nasce da un evento naturale e quindi allo stesso tempo gli uomini possono fare il bene. Cioè, noi dobbiamo un po' immaginare il mondo come un campo di battaglia, dove in questo campo di battaglia ci sono architetti del male, ci sono carnefici indifferenti, ma ci sono persone giusti e responsabili. E in questa situazione, in questo campo di battaglia, ognuno può fare la sua scelta. Ma ritornando a Bartoli, c'è un punto, secondo me, forse che andrebbe detto. Come mai Bartoli dice, io non volevo che si sapesse, perché il bene è anonimo. In realtà, la cosa è molto più profonda, perché chi fa del bene, prima di tutto, sta meglio con se stesso. Cioè, tu fai un'azione buona, non perché sei votato a sacrificio, perché vuoi, diciamo, pensi di andare nell'aldilà e Dio ti darà una pensione. No, non è questo. Il fatto che una persona che realizza un atto di umanità, a un certo punto, come dire, dentro di sé sta molto meglio, perché gli esseri umani sono sempre una relazione. E quindi, se l'esterno non funziona, dato che noi siamo una relazione, noi abbiamo un senso negativo. Quindi, il messaggio da dare ai giovani è che non odiare, fare il bene, aiutare il prossimo, essere responsabili, è qualche cosa che ti gratifica, in fondo, diciamo, è l'elemento anche dalla filosofia antica che porta a quella che viene chiamata eudarmonia, no? Cioè, lo stare bene, la felicità che viene dall'esercizio della virtù. Ecco, secondo me, questo che dobbiamo fare, cioè dobbiamo spiegare ed educare che tutti hanno la possibilità di ergersi contro il male, perché farlo significa stare meglio con se stessi. E abbiamo ripercorso a grandi linee quella che è stata la seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana. Abbiamo visto anche parte del memoriale, questo museo, lo ricordiamo, di proprietà della Regione Toscana, che si trova proprio nella zona di Firenze Sud, adiacente proprio a Piazza Gino Bartali. Per tutte le informazioni, comunque, le delucidazioni, i lavori del Consiglio, vi ricordo, c'è la pagina internet www.inconsiglio.it. Io vi aspetto come sempre qua tra sette giorni, dentro il Consiglio.